Debutto al nord è una nuova maglia, che effetto fa? Sicuramente fa un po' strano essere qui con una nuova squadra, ma sono veramente molto motivata, mi sono trovata molto bene, insomma ora è il momento di far vedere che sono tornata e un po' di nervosismo c'è perché se ripenso all'ultima gara un po' di ansia viene, ma spero che appena attacco il pedale tutte le ansie vadano via e ce la metterò tutta fino alla linea d'arrivo. A proposito di attaccare il pedale, la caviglia come sta? La caviglia sta abbastanza bene, anche nei giorni scorsi l'ho provata sul pavé e non mi sembra che mi abbia dato particolari problemi, sicuramente in gara è diverso, però insomma spero che vada tutto per il meglio. Senti ti hanno preso da leader, credono molto in te, te lo senti addosso o con calma un passo per volta? Beh, qui abbiamo Grace Brown che insomma conosciamo tutti, sappiamo che è in grado di fare grandi cose, quindi sicuramente lei è la leader, io ce la metterò tutta per starle accanto e poi ci vedrà sul finale come sono andate le cose per vedere un po' come ci si potrà muovere. Quindi oggi è più una ricerca di prestazione o puntiamo al risultato? Beh, farebbe sempre piacere fare risultato, io non voglio illudermi troppo anche perché spero di ritrovare insomma il feeling con la gara, con il pavé e tutto, però dai, sono motivata e speriamo che venga a porre una bella gara per noi. Bocca al lupo. Grazie, grazie. Ciao.